Bello a tutti ragazzi, ben ritornati dal vostro Joker, siamo tornati signori, finalmente più forti che mai ragazzi e più chiari che mai con il nostro amicone Tony Tubbo Ciao Jokerigni, oggi siamo qui per risfidarci nella sfida della vita tra me e Joker, la Search and Discard E siamo tornati ragazzi con un nuovo Search and Discard, oggi dopo un bel po' di tempo ovviamente con Tony Tubbo Per chi sa l'ultima volta ragazzi sono andati abbastanza bene che sembrano pilotati questi Search and Discard Ti ricordi Tony? Un'altra volta mi hai massacrato, diciamolo Vabbè t'ho massacrato ma sembrano anche abbastanza pilotati perché uno dice non è possibile quello che è accaduto E oggi siamo qua di nuovo per provarci, quindi cosa andremo a scartare? Oggi abbiamo due belle icone da scartare, un Monster che è sempre ragazzi quella carta Se uno di noi la va a indovinare per primo automaticamente anche l'altro deve scartare il proprio Monster, giusto Tony? Giustissimo Se becchiamo la classica carta argento ragazzi che sembra che non vale nulla l'argento ma se becchiamo la carta argentona ci permette di avere un'altra possibilità Quindi un'altra scelta di giocatori da dover far scartare, giusto? Certo e se becchiamo la Champions giocherì? E se becchiamo la Champions è un malus, praticamente dobbiamo stare fermi un turno, quindi l'altro avversario ha la possibilità di farti trovare qualcosina Quindi l'altra carta invece, If, Bronzini e per quanto riguarda il restante anche Sanchez che è la carta want to watch E' semplicemente roba da scartare perché sembrava brutto scartare i bronzi Esatto, esatto Abbiamo messo quel pizzico in più, no? Per dicicare, non basta scartare due icone o qualche altra cosa, mettiamo anche altre carte da scartare Ragazzi, allora, se questo video raggiunge, sentite qualche sfida che vi lancio, i 50 mila like La prossima volta scarto Ronaddo il fenomeno Io sto zitto Tu sei zitto? La prossima volta io Ronaddo il fenomeno La prossima volta ci giochiamo Ronaddo il fenomeno Allora, io ne voglio 75 mila per mettere il mio, ok? 50 mila lui mette il suo, 75 mila metto il mio Davo, regà, oh, ci c'è Ronaddo il fenomeno, non è che stiamo a scartare pizze e fighi, eh? Porca miseria Non ci arrivate Esatto, non ci arrivate, lasciate perdere Allora, Tony, siamo pronti, quindi la prima cosa da fare è andiamo a aprireci un pacchetto E vediamo chi di noi trova qualcosina 3, 2, 1, vai Apriamoci questo pacchetto, vediamo un po' cosa esce fuori Vediamo se mi da... Qua su Xbox è una vita che non vengo, ragazzi Walk out Si illumina Walk out Oddio! Non ci credo! Non ci credo! No, io che te lo dico affatto, non mi credi Ti giuro, non mi credi Neymar Come Neymar? Ah no, scusa, ho sbagliato Dai, ma sei un pezzo di fango Fai dove Neymar? Allora, Emre Can Che già gioca in Bundesliga adesso E' stato trasferito Ma mi esce ancora Versione Piemonte Calcio 81 81 a me Draxler 83 Eh, ma mi occuro per dire che però Quindi inizio io allora Inizio io Allora, l'ultima volta mi sembra che anche l'ultima volta ho iniziato io, Tony Eh, e sappiamo com'è andata a finire E sappiamo com'è andata a finire Allora, stiamo facendo un classico 4-4-2 Di modulo E direi subito di far iniziare un pochettino l'avventura Ok, Tony Ci siamo Allora, ragazzi Facendo partire subito un bel calcolo ipermatematico Io direi di partire un po' dalla parte sinistra Del nostro Tony Dubbo Il nostro Bombero Quindi che facciamo? Io ti vado a chiamare subito una cosa un po' strana Un terzino sinistro Mi sento subito di partire dai terzini Non so per quale motivo Tu mi dici La gente pensa che noi le cose ce le prepariamo Ma noi se ce le prepariamo le cose vengono meglio Perché già mi hai preso il Monster Come il Monster? Sì, ti giuro Ma lo penso Eh, ho capito Ma automaticamente mo' devo scartarla anch'io Cioè, è stata vinculata questa Sì, vabbè, ma io c'ho più che non vado Dove è una Hulk, dai Eh, ma guarda che Hulk è tanta roba Però, raga, ma è stata una fregatura sta chiamata che t'ho fatto Scarto anche Hulk, allora Certo Adesso Hulk è come se fosse stata la mia chiamata Ok, allora scartiamo Hulk Ah, domanda, dove ce l'avevi Hulk? Perché non lo vogliamo Ce l'avevo sul centrocampista sinistro Ok Ciao Hulk È stato un piacere Vabbè, eh, allora ragazzi È qualcosa che non quadra Però devo ritirare lì di nuovo io Eh Allora, terzino sinistro hai messo Hulk E automaticamente non credo che tu abbia messo qualcosa Sul terzino destro Eh, pichi, scusami Sul terzino destro Allora facciamo così Andiamo sopra Esterno sinistro Sicuramente Siii È un bronzino No, è Matip Champions Quindi adesso io due volte Ok, queste due chiamate non mi sono affatto piaciute Per un cazzo proprio Eh, però spesi Come la prima volta ti chiamo anche io il Champions Eh, ho perso tutto il bonus Eh, allora dai, chiamano su, forza Allora, adesso vado io Allora, tu c'hai la faccia del difensore centrale sinistro Così Arrato Cioè Già mi hai chiamato DC sinistro? Yes Ci piace il champion, Zimbrowager? Tony Io questo search and discard lo chiudo ufficialmente Perché io non so se odiarti O quando tu con quelli e te ci vediamo Mi devi una carta speciale Oh, quale? Mi devi un'icona Oh, scartato per noi Cioè io ho detto di pare che mi chiama come prima carta un difensore Cioè di pare Allora, che poi Io non posso scartarlo, Tony Tu mi odi Cioè mi hai beccato figo 88, icona Sì Hai perso la doppia indesa con Cristiano Ronaldo Capita 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 No, non ci credo, regà Mi tocca scartare già figo Cioè ma stas Tira ancora a close Ma te lo chiamo mo Dai, lo sto scartando Ma vaffanculo, dai Non va bene Ma io non posso, regà Cioè ma che stasera di scatto che stiamo facendo qui? Mi sono auto-ucciso all'inizio E adesso è già l'icona Secondo la mia grande cervella Se tu hai messo il difensore Icona Significa che l'altra icona L'hai messa Lontana da lui Quindi Andrei da uno degli attaccanti Se hai messo a sinistra l'icona Difensore Allora attaccante destro Sarà l'altra icona Uno più uno uguale due Simo se c'è indovinato Allora ragazzi Veramente Ragazzi sembra fatta apposta Io chiudo ufficialmente il session discard Giura C'è una che non è dominata Allora io chiudo ufficialmente il session discard Cioè mi vietta piagna, regà Non ci credo, veramente No, io non so se ti sei allenato Non so se mi hai messo le telecamere a casa nuova No regà mi vietta piagna Voi giuro non è possibile Tu chiamate così non è possibile Veramente indovinatemi quello l'altra volta Cioè Regà a me ci posso credere Ma te l'ho detto Era un giramento psicologico Ho detto Quello se l'ha messo di qua L'altro l'ha messo dall'altro lato Con forza E c'è indovinato Simone ho capito la tua psicologia Ma tu è un affanculo No psicologia Cioè regà No io me sto sentin male Mi hai preso close 87 icona Godoo Godoo Non è possibile ragazzi Cioè due chiamate e due cori Ragazzi tutti a commentare Hashtag la vendetta di Tony Tubbo Forse Ma ok ma tu non hai Non hai neanche un bricio di cuore Mi hanno hackerato ieri Porca miseria Non hai cuore Ma sto scartando close No regà Di io fin... Vabbè ok Io non ho più niente da perdere Tony Cioè fai come cazzo ti pare Andiamo con ATT sinistro Tony Vai Andiamo così a occhi chiusi ATT sinistro Ma si Placiodimos Ma si Dif 83 A meno Leaf ma va a cagare Tony Allora Madonna è il mio ragionamento Non c'è credo Se tu hai messo le due gone centrali Vuol dire che Le altre card le hai piazzate sugli esterni Eh Io ti dico esterno destro Esterno destro Tony Fortunatamente mi hai beccato un bronzino Ah che palle Ah no ma no Cresce di stare Credo che è più difficile da me Capito ma poi Che voli su Bebe Camer If Want to watch Non lo so io Allora andiamo con Centrocampista Quindi cc Qui sento un po' di silenzio Andiamo con il sinistro Sicuro? Eh per forza Dai Allora io ti lascio l'ultima scelta Di cambiarlo per il destro Poi lo fai tu No no lo chiamo dopo il destro Andiamo così Non lo chiamo dopo il sinistro Non fai niente Non fai niente CINCIO CINCIO BANESI Alleluia un'icona CINCIO Perché Fammi sentire Fammi godere anche Quando scarti tu un'icona Porca miseria Non già ma CINCIO BANESI CINCIO BANESI No Mi hai fatto scartarmi con i due secondi E parli Vabbè ma le tue erano icone forti Le mie erano icone emotive Importanti Emo di CINCIO 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 Salva Cannaval Già salva Cannaval Quindi adesso due chiamate Mi hai rotto un cazzo Tony Allora mi sembra che ti ho lasciato un attaccante Sicuro sinistro E vai E vai Aspetta l'attaccante sinistra Oh va a cagare Tony Brunzo Mi hai beccato UEFA No ho perso le due chiamate Ah a meno questo una goduria Tadici 84 della UEFA Vai vai Meno male Meno male Mi stai a distruggere Meno male Due chiamate tu Io andrei Ovviamente la parte sinistra Te l'ho fatta quasi tutta fuori Andiamo a levarci subito il portiere Anche io mi levo il portiere Subito Così almeno tutta quella parte Te l'ho fatta fuori Adesso silenzio Mi hai bruciato 30.000 gritti Chi è? Sterling Ovis Ah Sterling Pure è sterling oro giusto? Carta oro? Oh No ti vanno le due di chiamate Allora Allora Ho un'altra possibilità Giusto? Ti chiamo L'esterno destro Arto sta zitto Mi fa morire Dai Perchè? Sono calcoli matematici questi Ah fammi una tua matematica va Due più due faccio cinque Dai No 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 Tre anni al Napoli Sessantotto presenze Un giro Cannavaro Sette anni al Parma Duecentottantone presenze Sei gol Ah ma lo vedi Do parma cannavaro Scarta allora Basta Vai via cannavaro Addio Non ci credo Regà sembra tutto Fatto apposta Porco dì Ci non ci voglio credere Ti rendi conto che adesso tu Da me c'hai tre bronzi da chiamare E una carta speciale Un argento E un want to watch Però fin quando mi rimane So want to watch Tu posso chiamare anche io a te Esterno sinistro Mi chiami l'esterno sinistro? Yes Ma sei sicuro Tony? Yes Ma va a fanguncia vai mai? I don't change my opinion No A fanguncia vai No Ma hai chiamato il secondo Cristiano Ronaldo Sono Sono alto Ciao Ciao Sono alto È stato un piacere E qui dimostra che ti è rimasto a te da prendere Da chiamate che tiene ancora Want to watch e leaf Ah want to watch e leaf Ok Allora Facendo un calcolo super matematico Oddio santo Ti ho da chiamare la ttd Olè Hai vinto Simone Perché finalmente l'hai preso un bronzino Ah 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 Eh già è gg il bronzino Ah fanculo Allora A me mi è rimasto i terzini Il terzino te lo ho toccato proprio Andiamo al terzino destro vai Voglio andare sul terzino destro Veloce Senza a pensare No Simone Simone Ne lo so Non bronzino Vai 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 Senti io non so Te la sto regalando Te la sto regalando Io quando ti vedo Sappi chi ti picchio No Perché non faccio offendere Mi hai preso Sanchez Want to watch Olè Eh però Ma non è un cazzo Doni Ma me è stufato Oh Cioè ci stiamo distruggendo il club Raga Dopo chiamo terzino sinistro G su si fa sicuramente là Ho visto qualcosa Nella parte difensiva Maledetto Ebbè Si ci stanno Tre a basce E uno E radeghiamo E radeghiamo Il difensore centrale Destro Sei sicuro No Però si Potrebbe essere anche Il centrale Sopra Non lo so Fidati di me Cambialo No No Cambialo No Cambialo No Ti sto dando la posizione Nella ricettone Rimango fedele And one to watch Se ne va Sì Eh ho vinto Eh sì Eh ho vinto Stu cazzo Ho vinto La gloria Manca a dir Mi sono rimasto L'icone Manca Cagliare Però La vittoria È mia L'altra volta Tony A prescindere Jesus è buggato Eh Jesus è rimasto qua È rimasto qui Giocare con Tony È un massacro Regà Cioè Ogni volta Non c'è Search e discard Ci distruggiamo Le carte Cioè Io ho paura Di giocare Mironaldo Il fenomeno Con te Perché tanto Sono sicuro Che lo perdo Ti vergogni Guarda Quello è stato il pezzo Cioè Sinceramente Perché Ma là è stato il pezzo Perché Ho ragionato Che tu Mettendone una in difesa Ne mettevi un'altra In attacco Solo con quello Ho vinto Mannaccia Vittoria morale Tony tubo Vittoria morale Guarda La vittoria morale Morale Della conciata proprio Perché Chiamarmi due icone Di fila Non lo so Non è mai successo Lo giuro Io realmente Non so cosa Di dirvi Cioè Avete visto voi Con i vostri occhi Quello che è accaduto In 20 minuti Di video Cioè È successo Il devasto Il devasto Secondo me Tony tubo Sei un hacker Da console Te lo dico io Cioè Ormai Io sarò l'hacker E tu vincite Le challenge Ormai Ormai Io e gli hacker Siamo una cosa sola Signori Questo video C'è da termine Spero ovviamente Che almeno a voi Vi sia piaciuto Perché a me A Tony Abbiamo perso 4 goni in 2 Non è che C'è andava molto De lusso Sto search and discard Soprattutto Mi raccomando Non arrivate A 75.000 like Se no Dobbiamo farci La search and discard Con Ronaldo Il fenomeno entrambi E io Ho aggiungito Anche Un 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 Gullit Una Tutta roba seria 5 milioni Arriviamo a 50.000 like E ci giochiamo a Ronaldo Il fenomeno E facciamo sentire male Tony Dubbo Per forza Però Dobbiamo spolliciare Mi raccomando Signori Uscirà anche un video Sul canale di Tony Quindi mi raccomando Voi andatelo a vedere E supportalo al massimo Noi ci vediamo In un prossimo video Mi raccomando Cliccate Tanti miei pollici in su Seguite anche Tony Dubbo Trovate il link In descrizione Io Tony Ti ringrazio Per averci Illustrato Come scartare Due icone In due secondi Quindi grazie mille Grazie a te Giocherò E però La vittoria fisica Me la porto a casa Sempre io Per il momento Ancora ho la vittoria Ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi Un bacione Da Giocheroni è tutto Ciao belli Ciao